Per l'agricoltura è un reddito integrativo importantissimo perché l'agriturismo ha permesso la cura del territorio, ha permesso gli investimenti in azienda, abbiamo recuperato quel bellissimo patrimonio rurale che avevamo nelle nostre campagne e quindi è una componente che vogliamo tutelare e vogliamo supportare. L'ufficio che si inaugura oggi qui ad Arezzo è un ufficio che deve servire per far crescere ancora meglio i nostri agriturismi italiani e ovviamente toscani. Nasce ad Arezzo il primo ufficio dedicato al mondo dell'agriturismo. Sarà possibile avere consulenze gratuite per le imprese agricole che vorranno aprire un agriturismo e per tutti gli operatori che intendono verificare la propria posizione aziendale e il corretto mantenimento dei requisiti. Nell'agriturismo si vuole trovare quella genuinità, quella spontaneità, quel vivere l'azienda agricola, quel vivere la realtà contadina, quel vivere il paesaggio, quel vivere l'ambiente ma quell'esaltazione anche dei nostri prodotti. Ed è per questo che altro passo che andremo a fare a breve con il nostro ufficio dell'agriturismo è mettere insieme prodotti di altissima qualità delle nostre vallate retine insieme agli operatori agrituristici per far sì che sui loro piatti, nei momenti di degustazione, di somministrazione agli ospiti ci sia sempre più aretinità all'interno delle loro pietanze.